ciao il tuo portfoglio di artista ti rappresenta o il tuo portfoglio fotografico ti rappresenta veramente il portfoglio fotografico non smetterò mai di dirvelo è uno degli strumenti più importanti che il fotografo la fotografa e l'artista in generale se un portfoglio artistico hanno a disposizione molto spesso però sottovalutato e non gli diamo la giusta importanza vediamo quindi se il tuo portfoglio ti rappresenta e in che modo lavorarci sopra perché rappresenti sia te che il tuo lavoro che i tuoi obiettivi anche di business bene prima di tutto quello che ti consiglio di fare è prendere la tua produzione artistica e fermarti un attimo per capire se quello che hai fatto fino adesso è in linea con la tua chiamata dell'anima coi tuoi desideri e con quello che vuoi mostrare al mondo infatti se di tanto in tanto non ti metti a guardare il tuo portfoglio da un punto di vista esterno quindi come se non fossi tu a guardarlo so che a volte è un po difficile però ci proviamo allo stesso può essere molto difficile continuare a creare e a produrre con costanza e coerenza di contenuti di stili di generi e anche di tematiche che sottendono il tuo lavoro ora ti do qualche domanda alla quale ti consiglio di rispondere un po alla volta avendo davanti le tue opere e cercando di essere il più oggettiva oggettivo possibile passa attraverso il tuo portfoglio e scegli le tre immagini preferite per te quelle che proprio dici queste sono irrinunciabili nel mio portfoglio e poi scegli anche le tre che di fatto ancora non ti convincono prendi un foglio sia di carta che digitale e annota tutti i motivi per cui le prime tre sono irrinunciabili e ti piacciono davvero infinitamente e nell'altra colonna invece cerca di elencare tutti i motivi per cui le tre meno preferite sono tali quando hai fatto il lavoro tre preferite e perché tre meno preferite e perché ti consiglio di prendere entrambi i set e inviare almeno a tre persone che ti conoscono che però possono darti un parere intellettuale onesto e chiedere a queste persone di descrivere quello che vedono non c'è bisogno che ti diano una critica artistica di quello che stanno vedendo le devono solamente descrivere il loro parere anche di pancia rispetto a quello che stanno vedendo quando hai recuperato sia quello che tu hai scritto nelle tue due colonne dei più preferiti e dei meno preferiti e hai recuperato anche i pareri che ti hanno mandato le persone ai cui hai chiesto di descrivere le tue immagini sei pronto per la seconda parte del lavoro di rinnovamento del tuo portfolio questo lavoro di curatela autoriferita e quello che ti chiedo di fare è provare a descrivere il tuo stile e scrivi cinque parole che descrivono il tuo stile e queste parole possono essere visive quindi colori esposizione composizione luoghi in cui tu hai creato il tuo lavoro o concettuali o simboliche fatto questo ora scrivi tre parole chiave che riassumano tutto il lavoro che hai fatto fino adesso e dicano dove vuoi andare col tuo lavoro ma non ci sei ancora riuscito non l'hai ancora raggiunto dopodiché annota tre modi pratici per ottenere lo stile che desideri per le tue immagini per esempio se stai cercando di avere più varietà di immagini potresti fare location scouting oppure usare sfondi diversi trova tre modi concreti che ti diano modo di migliorare là dove vuoi migliorare e che ti permettano di essere sempre più coerente e avere un portfoglio sempre più coeso dove invece le tue punti di forza sono già molto molto definiti questo è un punto molto importante quando hai fatto il tuo lavoro di introspezione di scrittura di curatela del tuo portfoglio con quello che ti contraddistingue vuoi che rimanga tale nel tuo lavoro e invece hai trovato anche le cose che magari non ti rappresentano più ti rappresentano di meno ora hai sia un lavoro sul portfoglio che un lavoro sulla tua comunicazione sulle tue tematiche che puoi comunicare per poter presentare e vendere al meglio il video di oggi è finito se ti è stato utile metti un like e mi raccomando guardati quest'altro video per capire bene il portfoglio come strutturarlo e ci vediamo alla prossima ciao